Buongiorno, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina. Parliamo oggi del tempo presto, nella giornata tra sabato 18 e domenica 19, quando avremo l'avvicinarsi all'Italia di un vortice ciclonico molto freddo, specie sulla dorsale adriatica. Tale vortice si butterà sulla penisola con la termica meno 4, meno 5 a 1500 metri di quota sul medio basso versante adriatico. Infatti poi nella giornata del 19, visto le condizioni ideali, avremo nevicate anche abbastanza intense fin sulle coste e le pianure di Abruzzo, Marche e Molise e anche sulla Basilicata e fino a 300-500 metri tra Campania, Calabria e poi magari poi spostamento anche sulla Sicilia.